ELEGAN è una collezione che è nata soprattutto da un'idea di destrutturare il mobile. Il 100% dei mobili da bagno, ma anche dei mobili in generale, sono realizzati con una loro struttura. Noi invece, in questa occasione, il mobile l'abbiamo completamente spogliato, quindi consentiamo ai cassetti di fuoriuscire senza essere appoggiati alle loro spalle. Presentiamo in questa occasione il modello completamente in vetro che, nella sua specificità, evidenzia il prodotto sia dall'esterno che dall'interno. Dopodiché ci siamo concentrati su un'altra collezione di mobili, sulla collezione Enfasis. Il tutto è partito dall'unire, all'area lavabo, anche la parte coiffeuse. In questa occasione, noi abbiamo unito anche la parte della cura estetica e del maquillage. Un altro progetto sul quale siamo molto soddisfatti è il Tower Oyster. I Tower sono dei lavabo a libero posizionamento, ossia non sono agganciati al muro. Il Tower Oyster, per la sua unicità, presenta la possibilità di erogare attraverso un rubinetto l'acqua per lavarsi direttamente da tappo di scarico. Quindi noi avremo un monoblocco tutt'uno sul quale viene appoggiato un rubinetto che consente la fuoriuscita dell'acqua e contemporaneamente permette il deflusso della stessa da unica posizione. Olivia è nata sulla spinta e sull'esigenza di un bellissimo progetto, che è il progetto di Renzo Piano Mare Terra. Lui ha realizzato una penisola di 40 etteri sul mare a Monte Carlo. In questa occasione abbiamo creato questa vasca. La sua particolarità è il funzionamento con idromassaggio e led posizionati alla base, che aumentano la leggerezza, facendo pensare ad una vasca da bagno che è sospesa nel volto. Meteore. Prima di tutto è una scultura. Credo che non abbia uguali perché un soffione può attivare la nebulizzazione, può attivare le cascate, può attivare l'effetto pioggia dinamico. Tutto questo con comando vocale, con app sul telefono, con pussantiera in dotazione o con il rubinetto a più vie tradizionale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.